Resta stabile il numero dei contagi da coronavirus in territorio ibleo. Anche oggi un leggero calo con 301 persone positive, tra cui 282 in isolamento domiciliare. L'altra buona notizia è che resta invariato a 276 anche il numero delle vittime per covid in terra iblea. Nessun morto, infatti, nelle ultime 24 ore. Aumenta invece a 13 il numero delle persone ricoverate in ospedale e oggi 6 in RSA a Ragusa. I dati dei soggetti positivi in isolamento domiciliare distribuiti per comune vedono oggi 17 positivi ad Acate, sempre 3 a Chiaramonte, sempre 73 a Comiso. Resta covid free il comune di Gioratana. Situazione identica ad Ispica con 43 casi in isolamento domiciliare, 16 a Modica, Conte Rosso Almo comune covid free, 5 a Pozzallo, più 4 a Ragusa, oggi 58 casi in isolamento, 8 a Santa Croce, 4 a Scicli che scende di 1, scende invece di 2 vittoria con 56 positivi in isolamento domiciliare. Intanto la semilibertà ritrovata, il gran caldo e la voglia di mare rallenta anche in territorio di bleo la somministrazione dei vaccini e quanto si apprende dagli ultimi aggiornamenti dell'ASP che mostrano un leggero calo nei numeri dei vaccinati durante quest'ultimo fine settimana. Numeri comunque sempre accettabili e intorno alle 3.000 somministrazioni giornaliere tra sabato e domenica, ma minori a quelli registrati durante l'ultima settimana appena trascorsa. Sabato scorso 2.986 somministrazioni in tutti gli hub provinciali, 1.029 prime dosi, 1.957 richiami, mentre i due giorni prima si era lavorato con una media di oltre le 3.200 inoculazioni di vaccino. Sempre sabato scorso, 921 dosi sono state somministrate nel lab di contrada Beneventano a Modica, 170 cicli, 794 nel centro ex Fiera e Maglia di Vittoria, adesso dotato anche di condizionatori, 55 all'ex ospedale civile di Raguse e 613 al Palaminardi, sempre della città capoluogo. A Pozzallo, luogo recentemente preso d'assalto da diversi bagnanti provenienti anche da comuni e province limitrofe, il sindaco Roberto Amatuna ha affermato che l'attuale periodo di serenità dal punto di vista sanitario fa bene al turismo, ma non deve comunque far abbassare la guardia, soprattutto nei luoghi al chiuso e con il più elevato rischio di assembramenti, come ad esempio lì di in spiaggia. Grazie a tutti.